Oggi voglio raccontarvi di una delle mie ossessioni biologiche, uno dei miei esperimenti scientifici preferiti. Quello che ha portato alle volpi addomesticate. Guardate che carine, sono bellissime, sono una delle cose che io trovo più belle in questo ultimo periodo. In realtà su questo canale ne avevo già parlato tempo fa, quando ho fatto la recensione scientifica biologica del piccolo principe. Per sapere che tempo fa io facevo un sacco di recensioni biologiche di film, libri, cose strane. Ve le lascio in fondo, se avete voglia, vi lascio l'intra playlist in fondo a questo video, quindi quando avete finito questo dovete recuperarla eventualmente. E beccarvi anche quella recensione biologica in cui raccontavo della storia del piccolo principe, della volpi addomesticata e del fatto che effettivamente noi come esseri umani abbiamo addomesticato le volpi. È una storia fantastica perché mette insieme l'evoluzione, l'etologia, il comportamento degli animali e anche un contesto storico davvero particolare. Perché questa storia non voglio raccontarvela semplicemente per come è andato l'esperimento, ma anche per tutto quello che c'è dietro, per il substrato culturale, storico, perché è davvero interessantissimo. Quindi lasciatemi metterlo, contestualizzarlo bene in un periodo storico, in un dove, in un quando. Perché questo è iniziato nel 1959 in Russia. Ma per apprezzare davvero questa storia devo partire ancora più indietro, perché devo raccontarvi dei fatti storici legati alla comprensione della teoria dell'evoluzione nel 1900 in tutto il mondo, soprattutto in Europa. Tutti noi ci aspettiamo che quando Darwin pubblica l'origine delle specie, tutti quanti più o meno accettino la teoria dell'evoluzione. Ed è in parte così. In parte, in quasi tutto il mondo, quasi tutti quanti accettano che gli organismi viventi siano evoluti, ma moltissimi, la quasi totalità in quasi tutti i paesi, non accettano che la selezione naturale sia il principale meccanismo. Non accettano quello che viene chiamato attualmente Darwinismo, quello che è attualmente ritenuta l'ipotesi più forte all'interno della comprensione della teoria dell'evoluzione. A cavallo del 1900, tra il 1890 e il 1920, si parla del vero e proprio eclissi del Darwinismo. E stavano emergendo, emergevano varie altre ipotesi, da ipotesi di ortogenesi, questa ve la racconto un'altra volta, neolamarchismo, oppure anche mutazionismo. I primi veri genetisti del tempo, del 1900, la genetica mendeliana stava rinascendo, dopo che sono stati riscoperti gli scritti di Mendel, all'inizio erano assolutamente contro la selezione naturale di Darwin. Dopo, dagli anni venti in poi, in Europa succede una cosa particolare. Ci si accorge che in realtà il mutazionismo, o meglio, la genetica e l'ipotesi darwiniana della selezione naturale non sono in contrasto, ma anzi si possono conciliare insieme e formare un'ipotesi molto più forte, quella che poi in questo processo verrà unificata in quella che viene chiamata sintesi moderna. La sintesi moderna diventa quindi in pochi decenni il modo in cui viene vista la teoria dell'evoluzione in praticamente tutto il mondo e viene accettata in praticamente appunto vari paesi, ma in Russia no, questo è un aspetto fondamentale. In Russia, per un insieme di motivi, la teoria dell'evoluzione darwiniana non viene accettata. Ci sono vari motivi per cui in Unione Sovietica non si afferma questo tipo di ipotesi e i motivi sono vari. Il primo, quello che ho raccontato di più, è il fatto che c'è un personaggio, Trofim Lisenko, che ha un'ascesa all'interno della comunità scientifica e poi anche nell'opinione pubblica, perché lui ha delle ipotesi diverse. Lui è neolamarchista, cioè lui ritiene che gli organismi evolvano sempre, evolvano perché qui stiamo parlando proprio del fatto che ormai tutti ritengono che gli organismi evolvano nel tempo, ma con un meccanismo diverso, cioè quello appunto lamarchiano, per caratteri acquisiti. Quindi un individuo durante la vita può acquisire dei caratteri che può eventualmente trasmettere alla prole. Bene, questa cosa è stata molto, quasi totalmente, rigettata dalla teoria dell'evoluzione attuale, quella diciamo darwiniana. In realtà dare la colpa soltanto a Lisenko non ha senso, c'è tutto un substrato culturale molto particolare. Innanzitutto c'è un discorso interessante, molte di queste scienze stavano nascendo in Germania e comunque in Europa. Per molti sovietici quella era scienza da nazisti, cioè la genetica era una scienza da nazisti. E non solo, in quel periodo, nell'Unione Sovietica, molte scienze hanno vissuto questo problema. Anche la fisica quantistica all'inizio non è stata accettata per questi motivi. La sociologia e anche la relatività, giusto per capire anche il contesto. Perché oltretutto, appunto, oltre ad essere una scienza da nazisti, che viene da un certo tipo di mondo, ha anche un problema. L'idea particolare è che la genetica, la selezione naturale, fosse una scienza che minava alla base alcuni dei concetti marxisti del tempo, come appunto l'idea del collettivismo e vedere il mondo anche come una specie di competizione continua tra gli organismi era una cosa che non era proprio accettata dal punto di vista ideologico. Ecco, per tutti questi motivi è stata ampiamente rigettata. Il momento di Apice è stato nel 1934, quando davanti all'intero partito Lisenko fa un discorso che viene direttamente applaudito per primo da Stalin, che appunto dice, sì, fantastico, Lisenko propone, grazie alle sue idee neolamarchiane, di attivare tutto un sistema particolare per riuscire a coltivare il frumento e altri cereali in Siberia. Infatti lui era convinto, e aveva convinto tutta la comunità scientifica appunto, che piantando grandi quantità di frumento o altri cereali in Siberia avrebbe, grazie ai caratteri acquisiti del frumento, portato al fatto di riuscire a coltivare queste grandissime lande di terra per appunto riuscire a produrre tantissimo frumento, anche per riuscire a arricchire il proprio paese. Questo ovviamente non è successo, è stato un grandissimo fallimento, anche proprio agronomo, nel resto del mondo, compreso in Italia, compreso negli Stati Uniti, la produzione effettiva di frumento stava aumentando perché si stavano usando altri metodi di comprendere effettivamente il modo di coltivare, selezionare, ibridare le varie varietà appunto di frumento, mentre lì la cosa non funzionava perché si stava usando un modello mentale sbagliato, un modello scientifico che non era quello che è reale, di quello che rappresentava al meglio la realtà. L'effetto di questo fenomeno è appunto il fatto che via via l'isenco perde di popolarità, così come il neolamarchismo, nel resto del mondo la selezione darwiniana viene accettata e aiuta anche a coltivare, a fare tante altre cose, ma magari di questo vi parlo in un altro video, e quello che appunto succede è che perde sempre più forza, non solo, purtroppo c'è anche una storia molto brutta, perché molti genetisti e darwiniani in Unione Sovietica vengono incarcelati se non uccisi, se non mandati in Siberia nei Gulag. Sarà soltanto dalla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, che ci sarà più libertà, grazie soprattutto all'arrivo di Nikita Khrushchev, e da qui in poi ci sarà più autonomia anche per gli scienziati. Qui succede quello che è inevitabile, cioè che da molti scienziati sovietici viene ripresa la teoria dell'evoluzione, quella che intanto si è diffusa in tutto il mondo, quella appunto darwinista, e in particolare adesso arriviamo alla nostra storia. Un certo ricercatore, Dmitry Beleyev, che era sempre stato un darwinista, però non era mai stato abbastanza famoso per essere arrestato o messo o ucciso. Quanto è brutto pensare che sia stato ucciso qualcuno perché credeva in un'altra ipotesi scientifica? Vabbè, lasciamo perdere. Nel 1959 diventa direttore di un centro di ricerca di citologia genetica a Nobosic. Qui ha l'idea più bella, secondo me è davvero un'idea geniale, bellissima, anche molto presuntuosa, in un certo senso però molto dirompente. Cioè lui era un forte sostenitore della selezione naturale, lui era convinto che applicando una forte selezione naturale su degli organismi se potessero avere dei risultati in poco tempo. Questa era anche un'idea molto interessante perché l'idea che l'evoluzione potesse venire in abbastanza poco tempo si stava affermando proprio in quel periodo storico, anche a livello mondiale. Quindi cosa fa? Decide di fare un esperimento sulle volpi, sulle volpi rosse. Acquista 130 volpi, in realtà sono la specie volpe rossa, però il fenotipo di quelle volpi è argentato, quelle che lui inizia ad addomesticare, e fa una cosa molto particolare. Decide di provare a selezionarli per la mansuetudine. La sua idea è semplice, se io seleziono generazione dopo generazione dopo generazione sempre lo stesso carattere, in particolare il fatto di essere mansueto, io probabilmente riuscirò a ottenere degli animali più mansuetti perché anche il comportamento è un carattere che può essere selezionato dalla selezione naturale o selezione artificiale. Dopo, se volete, discutiamo che differenza c'è tra l'una e l'altra in questo caso specifico. Infatti quello che fa è semplicissimo. 130 volpi, 30 maschi, 100 femmine, le fa accoppiare e la prole viene sistematicamente testata. A un certo punto della vita, se in gioventù ma poi anche a un'età un po' più avanzata, viene messo nella gabbia un bastone. In base a come la volpe reagisce al bastone, viene scelta per diventare elite riproduttiva. Quindi molto semplicemente quello che viene fatto appunto è prendere gli individui che sono più buoni, più mansueti, che non aggrediscono direttamente il bastone per riprodursi. Una generazione, due generazioni, tre generazioni. Già alla sesta generazione si iniziano a notare delle cose un po' particolari. Qualche giovane volpe non sapeva neanche più dare fastidio agli esseri umani. Già questo è interessante. Bene, quella diventa la nuova elite, nuovo carattere di mansuetudine da selezionare. Alla sedicesima generazione il 10% delle volpi è molto tollerante con gli esseri umani. Da giovani scodinzolano perfino, come se fossero quasi dei cani. Solo che abbagliano meno da quel tuo letto, sono molto carine e anche più autonome dei cani. Però questo è un altro discorso. E già adesso, che sono passati i 60 anni, più del 70% di tutte le volpi che nascono, figlie di questo esperimento, ormai sono volpi mansuete. Adesso sto facendo vedere dei video di queste volpi, che sono giocose, sono volpi che si comportano, al punto di vista comportamentale, come degli animali domestici, a tutti gli effetti, che non aggrediscono l'uomo, ma che palesemente lo tollerano e non solo lo tollerano, ci giocano. Sono probabilmente anche felici, però su questo magari apriamo una parentesi dopo, del vedere effettivamente gli uomini. Non stiamo parlando di animali addestrati, stiamo parlando di qualcosa di più profondo. È cambiato letteralmente qualcosa nel loro cervello. Questo esperimento è fantastico per tantissimi motivi. Ve ne elenco alcuni. Il primo è stata una delle tante dimostrazioni scientifiche che il comportamento ha basi genetiche, o ha una forte base genetica. È una cosa che ci ha voluto molto tempo anche all'interno dell'etologia per accettarlo. E vi faccio un esempio concreto, magari un po' brutale, in questo esperimento, all'interno di questo esperimento. Negli anni 70 sono state fatte anche cose che adesso, magari se fanno strano, infatti lo dico un po' cercando di ridimensionare. È stato provato a fare dei trapianti di fetti. Praticamente veniva presa una volpe più aggressiva, i suoi fetti venivano messi in una volpe meno aggressiva e viceversa. Vedendo che quello che contava alla fine era il carattere della madre biologica e che quindi il comportamento in quel caso era genetico. Anni 70 era un dibattito che c'era e questi esperimenti hanno sicuramente in parte aiutato, anche se sono stati un po' tralasciati, in parte perché stavano venendo in l'attuale Unione Sovietica. L'altro aspetto che secondo me è fantastico è che appunto facendo una forte selezione naturale o una forte selezione artificiale si può in poco tempo ottenere dei grandi cambiamenti comportamentali in un mammifero, come appunto una volpe, mostrando che anche in tempi non solo storici ma nella vita umana si possono avere dei cambiamenti evolutivi, perché le volpi addomesticate adesso sono molto diverse dalle volpi non addomesticate. Infatti il terzo argomento che è molto interessante e ma anche molto dibattuto è la questione del cambiamento fenotipico. Queste volpi sono anche diverse, alcune hanno la stellina, altre hanno le orecchie flosce, altre hanno la coda molto paffuta, molto pelosa. Sono caratteri che sono molto simili a quelli che ci sono stati anche nella domesticazione del cane, per capirci. Su questo c'è un dibattito, nel senso che c'è chi dice, l'ipotesi principale che probabilmente c'è anche un fondo di verità anche abbastanza grosso, è che selezionare per la mansuitudine seleziona secondariamente anche queste caratteristiche fenotipiche, probabilmente perché ci sono anche degli effetti pleiotropici, cioè i geni che determinano quei cambiamenti comportamentali forse sono legati anche al cambiamento morfologico. C'è tutto un discorso legato alla biologia dello sviluppo, in particolare alcune aree del corpo, alcune parti che determinano lo sviluppo di alcune aree del sistema nervoso sono le stesse che determinano alcuni cambiamenti del corpo e quindi ci sta che alcuni geni che determinano la mansuitudine poi possono comportare altri cambiamenti. È uscito un paper quest'anno che invece cerca un po' di ridimensionare questo esperimento stesso proprio, perché fa vedere delle cose, queste volpi sono state acquistate da un allevamento in Canada che aveva già delle volpi da circa 200 anni, quindi queste volpi erano non volpi in natura, erano già volpi tenute ovviamente non in tentativo di addomesticamento, però erano già tenute in allevamenti, quindi probabilmente avevano già una genetica abbastanza scarsa e quindi alcune di queste caratteristiche, magari non tutte, si possono spiegare anche in altri modi per la cosiddetta deriva genica, però davvero questo è un altro discorso, se volete approfondire vi lascio, è un opinion paper, è molto corto, lo leggete in pochissimo, lo lascio in descrizione se avete voglia. Questo esperimento secondo me è bellissimo, in parte perché in questo momento, adesso sulla Terra, esistono delle volpi addomesticate, che è bellissimo, voi potreste diventare i proprietari di una volpa addomesticata, esattamente come lo siete di un cane o di un gatto, questa cosa è dirompente, è fantastica, abbiamo letteralmente creato un nuovo animale addomesticato nel giorno di 60 anni, questo apre degli interrogativi etici, per me molto forti, innanzitutto, beh, ma quindi questa cosa potremmo farla con altri animali? L'altro giorno ho visto per esempio un video di un ragazzo su YouTube che aveva una piccola faina e mi sono detto, oh wow, ma guarda che carina, guarda che bella, è proprio bellissima, wow, perché non addomestichiamo anche le faine? D'altronde lo abbiamo fatto con le puzzole, infatti abbiamo i furetti, perché non farlo anche con le faine? Non puzzano, puzzano meno dei furetti sicuramente, sono anche più piccole, carine, sono bellissime, perché non farlo? Alla fine basterebbe aspettare 50, 60, se ma va male, 100 anni, magari hanno anche generazioni più corte, boh, perché no? E quindi questo approccio però apre dei problemi, perché la volpe sì? Perché il cane sì? Perché il gatto sì? E altri animali no? Perché non ci mettiamo a selezionare gli altri animali? D'altronde avrebbe anche un costo accessibile, gabbie, 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 sistematicità di fare sempre, ripetere sempre la stessa cosa e avremo dei nuovi animali, questa cosa è fantastica. Ma l'altro aspetto, almeno divulgativo, che secondo me... Poi fatemi sapere cosa ne pensate di questo discorso, perché è davvero complesso. Io ho un'idea molto particolare di questa cosa qui, però voglio sapere anche cosa ne pensate voi. Io sono sicuro che molti di voi saranno contrari alla possibilità di addomesticare nuovi animali, scegliendo di farlo. Detto questo, c'è poi tutto un aspetto appunto evoluzionistico, questo ha mostrato che cambiamenti comportamentali sono possibili nel giro di pochissimo tempo, in modo anche molto dirompente. Mostrando una cosa che ormai, nell'ambito della comprensione della teoria dell'evoluzione, si sa i processi evolutivi, se c'è una forte selezione, possono avvenire molto molto velocemente. Su questo non ci piove, è una cosa che si sa. È una cosa che viene poco divulgata, si sa poco a livello di opinione pubblica, ma in realtà è importante da tenere in considerazione perché in natura, e metto le virgolette in natura, ci sono dei momenti storici particolari in cui ci sono delle forti pressioni selettive. Vi ho raccontato la storia dei pesci del lago Malawi. Compare un nuovo lago, arriva un pesce, quel pesce ha una pressione selettiva enorme perché ha letteralmente un nuovo lago da occupare. Lì l'evoluzione può andare molto più veloce rispetto alla media. Oppure viceversa, noi esseri umani facciamo una certa pressione selettiva sull'ambiente. Pensate soltanto ai cacciatori, che vanno e cacciano alcune specie di uccelli piuttosto che altre. O alcuni individui piuttosto che altri, magari di una specie si cerca di catturare di più i maschi appariscenti. Pensate che pressione che stiamo esercitando noi sull'ambiente, semplicemente andando a caccia. Oppure guidando le macchine, investendo alcuni individui piuttosto che altri. Banalmente quelli più svegli o quelli più stupidi rispetto a quelli più svegli. Quindi processi evolutivi stanno avvenendo, avvengono e possono avvenire in tempi ragionevolissimi. E questo è l'aspetto curiosissimo di questa storia. In particolare poi, se vi interessa il discorso delle addomesticazioni in generale, vi consiglio questo libro molto bello, Addomesticati, l'insalita evoluzione degli animali che vivono accanto all'uomo. Che sarà oltretutto il libro del mese di maggio. Vuol dire che se voi vi abbonate al Patreon, vi lascio tutto in descrizione, entro la fine di maggio ve lo mando appunto ai primi di giugno. Come lo manderò comunque a tutti i miei iscritti al Patreon nel tier dedicato. È un libro che merita molto, vi lascio in descrizione anche se volete approfondire. O se mi sento e volete comprarlo attraverso il link di affiliazione Amazon. Come sempre sapete che io ci faccio anche un podcast aggiuntivo, dedicato. E all'interno del libro manderò anche una lettera per chi è interessato ai libri. Oltretutto sto anche un po' rivedendo e ripensando la cosa dei libri. Per cui se anche entrate a giugno, ai primi di giugno, e me lo esplicitate, ho deciso che mi posso mandare anche uno dei libri vecchi dei mesi precedenti, al posto di quello del mese corrente. Nel tier trovate la lista effettiva di tutti i libri di cui ho parlato fino adesso, ho raccontato, ho mandato, quindi date un'occhiata a questo discorso qui. Comunque è un libro che merita davvero molto e parte dalle volpi. Questa è una cosa curiosa, io ero convinto di essere uno dei pochi a sapere questa cosa delle volpi. Ovviamente non è così. E poi parla di tutti gli altri processi di domesticazione. Il primo capitolo sono le volpi, il secondo sono i cani, poi i gatti, poi i maiali, eccetera, eccetera, eccetera. Interessantissimo. E fa vedere una cosa importante. La teoria dell'evoluzione non è una cosa che è lontana. Con la teoria dell'evoluzione noi abbiamo domesticato gli animali e le piante. E la domesticazione degli animali e le piante è stata una delle cose più dilompenti che ha fatto la nostra specie negli ultimi 10.000 anni, se pensiamo all'agricoltura, 30.000 se pensiamo ai cani, ok? E che ha permesso di cambiare completamente il mondo intorno a noi. Se noi siamo quello che siamo, se io in questo momento ho dei transistor davanti a me che stanno convertendo le onde luminose in informazione che poi posso trasmettere con delle onde elettromagnetiche attraverso i vostri computer, è perché 10.000 anni fa abbiamo imparato, grazie alla selezione naturale, senza conoscerla, ad addomesticare le piante e gli animali. E questa cosa va riconosciuta in una grandissima figata. Detto questo ragazzi, questo video mi ha emozionato non poco. E ultimo appello, se avete voglia di diventare allevatori di volpi, sappiate che potete comprarle, nel senso che le volpi queste, il centro di ricerca le vende se volete per supportare i propri costi, costano tantissimo, ma in più ci sono ormai allevatori in giro per il mondo che da quelle volpi hanno fatto gli allevamenti, quindi se volete potete averle, è una figata, in teoria baiano anche molto meno dei cani, quindi sono degli animali molto carini, poi sono molto più autonomi. Quindi se qualcuno di voi è interessato e vuole portarsi delle volpi a casa, a parte che non so come funziona la legge italiana, tutto il discorso legale dell'avere le volpi, ma fatelo voi, scrivetemelo, se vi viene voglia di tenere una volpe a casa, scrivetemelo che voglio anch'io e facciamo un allevamento di volpi insieme, vi prego, scrivetemi al mio sogno. Detto questo, io ragazzi vi saluto, se volete supportare il mio canale, trovate appunto il Patreon, e lì se volete c'è una conferenza intera in cui ho parlato della storia delle volpi, mettendolo in prospettiva, come dicevo prima, di tutti quei casi in cui la teleovoluzione è utile o è stata utile per l'umanità, per fare cose, in questo caso addomesticare gli animali. Ve la lascio in descrizione, trovate tutto nel mio Patreon, e per il resto ragazzi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!